Buongiorno a tutti e grazie anche da parte mia. Voi non sapete come sono gioiosa di poter parlare dopo tutti quelli che mi hanno preceduto. Dunque, il mio compito è di dirvi che cos'è un crowd museum, un museo partecipato, un museo di comunità, ma devo farvi prima una confessione e vi devo dire che oggi parliamo tanto di futuro, ma io sono un po' antica, sono una storica dell'arte antica e oggi siamo dentro un museo che ha più di 2000 anni di storia, quindi veramente molto antico. In questo mio percorso di vita e di studi una delle cose che ho imparato è che essere un po' antichi vuol dire qualche volta anche riconoscere di muoversi sulle spalle di giganti e per quanto riguarda me, Carlotta, i giganti sono museologi come John Keenard, io di John Keenard sono memoria alle citazioni come delle star del rock. John Keenard che negli anni 60 era capo della Anacostia Neighborhood Museum, un museo che appunto sperimentava, e si aveva tanti altri musei del mondo anglosassone, le prime esperienze di mostre partecipate, mostre costruite in modo condiviso con le comunità. Diceva John Keenard, mentre la comunità parla e discute il museo e l'orecchio in ascolto, e questa è una delle citazioni che sono a memoria. Una delle prime mostre di questo museo è stata, pensate, una mostra sulla infestazione dei ratti nelle fogne di Harlem. E oggi questa eredità, queste esperienze appunto un po' rivoluzionari degli anni 60, come sono state raccolte? Ecco, per esempio a Liverpool da circa dieci anni David Fleming, il direttore dei musei nazionali, lavora appunto con i musei che compongono il gruppo dei musei di Liverpool, con una visione strategica di ricostruzione di significato, proprio nell'ottica di costruire esperienze che siano significative per la società e per il suo sviluppo. Ho avuto occasione di sentirlo pochissime settimane fa ad una conferenza, e rispetto a quello che abbiamo sentito anche oggi, che forse raccolgo un po' il testimone, diciamo, da chi mi ha presieduto, dato Mario Nanni. Che cosa dice Fleming della tecnologia, del digital? Dice che è soltanto un tecnicismo, che per quanto riguarda noi che siamo musei, forse dovremmo imparare a togliere anche questa parola dal nostro vocabolario. In fondo nessuno di noi dice più, per favore mi accendi la luce elettrica? Allora forse dobbiamo prendere atto che oggi anche la parola digitale e la parola tecnologia fanno parte delle vite dei nostri pubblici, della nostra audience, dei nostri clienti, chiamateli come volete, ma fanno parte della vita quotidiana e quindi forse è il momento di abbracciare la rivoluzione in un modo consapevole e olistico. E poi ho un secondo e ultimo esempio, ancora per raccogliere appunto il testimone di chi mi ha preceduto, ed è un piccolo museo che sta a Derby, in Inghilterra, una vecchia filanda, si chiama Silk Mill, era il museo dell'industria e oggi si è reinventato come il museo del fare, Museum of Making. Questo museo, nelle fasi di riapertura, fase che sono ancora in corso, il museo non è ancora completamente riaperto, ha chiesto l'aiuto della comunità di riferimento della piccola città di Derby, ma non ha solo chiesto ai cittadini di aiutarli a pensare, a sviluppare una strategia, ha proprio chiesto aiuto per costruire il museo, vuol dire che falegnami, elettricisti, stagnini, sono andati nel museo e hanno con le loro mani costruito i supporti allestitivi del museo. E questo cosa vuol dire anche? Vuol dire anche avere la possibilità di far passare quel sapere artigianale, come si vede in questa foto, tra le generazioni, perché Silk Mill è anche un posto dove i più giovani possono imparare come si fa appunto a molare un pezzo di legno per farne un supporto museale. E per un museo antico come il nostro, la Fondazione Torino Musei gestisce quattro musei, uno è Palazzo Madama, l'altro è la GAM, la Galleria d'Arte Moderna, il Borgo Medievale e il Mao, Museo di Arte Orientale. Dei musei quindi possiamo dire italiani, cioè tipicamente italiani nella loro classicità. Ecco, anche un museo classico come questo può abbracciare il futuro, può appunto buttarsi in questa avventura. In un museo come Palazzo Madama si può venire a fare a maglia, lo vedete nella foto, si può venire a sposarsi, si può venire a discutere e in un museo come il Museo di Arte Orientale, che spero avrete occasione tutti di visitare, si può sperimentare la realtà virtuale, il 3D, l'uso degli oculus. Noi l'abbiamo voluto sperimentare cercando di rendere anche questa esperienza, che per sua natura tecnica oggi è abbastanza singola, perché è un occhiale che si indossa una persona alla volta, abbiamo cercato di renderla invece crowd, condivisa, permettendo a chi partecipava all'esperienza di vedere su uno schermo che cosa i propri amici vivevano in quel momento con l'occhiale. Chiudo, perché facciamo questo? Perché un museo deve preoccuparsi di incidere nella società, di avere valore, questo costa anche fatica, sforzo organizzativo e di staff, perché dobbiamo cercare di raggiungere la punta di questa piramide, è un po' antica anche lei, anche questa grafica è antica, è una vecchia slide di Nina Simon, che ha scritto un libro che si chiama Participatory Museum, diversi anni fa ormai. Per raggiungere, dicevo, il livello 5 di questa piramide, che vede un museo anche d'arte come il nostro, essere un luogo in cui l'interazione con il contenuto, quel rapimento estatico del museo forum, è appunto un'esperienza collettiva, sociale e condivisa. Grazie.